Salve a tutti Blazers e benvenuti in un nuovo video di Super MarioCraft Questa volta non è un amichevole, ci sfideremo in un nuovissimo trofeo Ragazzi descrivete questo trofeo a modo vostro È bello, è nuovo ed è morto Esatto, è come il canale di Tyr No È verde Ah bella questa Mi aspettavo Invece no, perché il trofeo sarà il cavallo zombie Perché il cavallo zombie? Perché la serie finalmente torna con un grand premio e con un trofeo E quindi come il cavallo... che cazzo avevi detto prima? Cavallo donato non ritorna in bocca? Ma tu hai fatto tutto un pimpone per scegliere questo trofeo Ho detto che è tornata la serie dal mondo di Mordi L'ha scelto Tyr, ok? È una merda, non lo voglio questo trofeo Mi bastano tutti quelli che ho già Andiamo Allora, prima di cominciare Dobbiamo anche dire che la pista è stata rinnovata in due punti Quindi verso metà gara c'è una parte gigantesca Non abbiamo fatto una nuova pista Abbiamo preso la nostra pista E l'abbiamo rinnovata C'è proprio, ragazzi, c'è un tratto che è una roba bestiale E ci sarà anche una novità alla fine Che sarà forse il tratto più ostico di tutti E potrà cambiare tutto Questo Gran Premio sarà diverso da qualsiasi altro Gran Premio Giocheremo in creativa Perché i mezzi richiedono la benzina E per il momento non vogliamo inserire pit stop Sarebbe forse un po' troppo Detto ciò Cosa facciamo, ragazzi? Vogliamo già partire? Beh, direi di sì Allora, ragazzi Quanti giri? Due giri Due giri Due giri perché la pista ora è molto lunga Tiaro Io ti direi di premere il pulsante Va bene, allora Sghissa bottoni Sghiscia il butoon Ostrega E... Via! Tantissimo Si parte No, mi sono già incastato alla prima turca Ma porca miseria Innanzitutto lasciate un like Non perché ritorna Super Mario Craft Ma perché il sottoscritto Si è ricordato di mettere le teste nella minimale Bravo, Eren Ragazzi Un applauso Grazie, grazie Premete il B per salutare l'autista Shift Premete il Shift, è vero? Shift, ah, Shift ragazzi per il power up, mi raccomando Comunque Oh, che bello Abbiamo le teste Possiamo vedere che Tiara è indietro Che io non sto prendendo le pedane E che qui Non si entra nello stadio Ma si va a destra Yes Oh, shit Nuovo tratto Eh, che tratto Ragazzi, questa parte di pista È qualcosa di devastante E io già non mi ricordo com'è Grazie, simoo Oh, yes Stavo già girando dalla parte sbagliata Ok Mi sono incastrato mille volte E io vado avanti, piano piano Ok, io sono ultimo con Tier in questo momento Che bello Che cosa succede? Uovo Ma infatti Da quando noi stiamo entrando in una cattedrale, ragazzi, guardate Questa è la trollosa Cattedrale Guarda Ok, c'è la sinistra, cavolo Ho recuperato Tech, forse, sì, quasi C'è Emerald davanti, però C'è Emerald davanti, ragazzi Però adesso c'è una cosa fichissima E questa è la parte più bella Guardate Merda Mi sono scattato con la barriera Guardate Il portale Tori E poi Il salto nel castello Ok Il trollino Se la ci dobbiamo concentrare Guarda il castello, se è preso bene Ti spingi direttamente fuori dalla porta Sì, sì, ti dà un boost devastante Ti spingi fuori dalla porta direttamente Tipo quello che Ma perché io Ora io Perché Mio Dio Che casino Oddio, sono primo Sono primo i coni Ragazzi, questa pista ribalterà tutto Ho fatto caccare finora E poi i coni recupero La parte finale è quella peggiore Sì, la parte finale, ragazzi È un ansio Ora capirete perché La gara dura solamente due giri La pista è diventata enorme Abbiamo iniziato da un botto E siamo ancora qui, ragazzi Sì, abbiamo fatto proprio il pezzettino iniziale Davvero, davvero Allora, qua bisogna stare molto attenti Ma Emerald, dove è finito? Ah, no, è attaccatissimo Ok, in questo momento La posizione Che occupiamo È la numero uno Poi c'è Tyr Che ci segue Il secondo posto Con Tec al terzo Ed Emma al quarto Tyr però si infila Di prepotenza Lo provato E siamo qua E ciò che non fa quelle ragazze Da un sacco di tempo È strettissime Ho tirato una battutaccia E ma non me ne è risposta No, nessuno l'ha sentita Perché è stata overpowerata Da tutte le altre voci Non lo so Era bellissima No Simo Cosa Tutti incastrati Cosa? Cosa? Ma Tyr Dove ci siamo incastrati? Non lo so Poi siamo andati di sopra Che è successo? Gara persa Ciao Raga Ma cioè ci siamo incastrati In un punto inedito Sì Ma capitava le prime gare No Ma mai mi è capitata A me è capitata Forse una gara Non conosco questo errore Emma andiamo a vincerla Eh cavoli ragazzi C'è Un trofeo vinto da Emma Sarebbe una novità A te che sarebbe il secondo Oddio Stavo finendo fuori Eh sì Ragazzi C'è un problema Mi sono incastrato In una finestra Con la rampa Nice Eh perché ci sono ancora I bustini da carrello Eh cavoli Mamma mia qua Qua ci volevamo Un beta testing Più appropriato Mi sa È che ci siamo fermati A beta testare Le parti nuove Quelle vecchie Quattro pirla Allora ragazzi Stiamo arrivando Alla parte nuova Della pista Guardate Guardate che casino Qua bisogna girare subito C'è una scala Che è un casino No Ho preso La deviazione La deviazione Tec ha sbagliato Ok ragazzi Ora vi faccio vedere Dove sta la deviazione Che bisogna non prendere Questa qui Questa qui Ok 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 Ho rallentato un botto Per non prenderla Ma almeno È andato Oddio Ah C'è che è stato dietro M Ha chiuso dietro M Ho chiuso Top 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 Eccolo Eccolo E adesso le recuperiamo Mamma mia ragazzi Questa gara È una roba Devo recuperarvi raga Sì sì Oh ma Tiar Hai fatto Così sei Baggatissimo Sì qua nelle scale Si bagga Tranquillo Quindi io non so le posizioni Ora perché abbiamo Baggato un botto Ok Però mi sa che ho Recuperato un sacco Sì infatti ho M davanti A un passo E Tiar Lo vedo Ho appena concluso il primo giro Ok siamo qui Siamo qui È rimasto un po' fregato Tecca Eh sì Con quella cosa lì Sì Andavo bene Ok ottimo Prendiamo la pedanina Qui Molto bene Con il latte E ho recuperato Eme Ho Fottutamente Recuperato Eme Ragazzi Vai Vai Ce la possiamo fare Tiar è a tiro di schioppo E ovviamente Come in ogni gara Sono primo all'inizio Dell'ultimo giro Ma finirò ultimo Allora Tiar Cerca questa volta Di non fare cretinate Ti provo Ti provo Prova a mantenere La prima posizione Non farti prendere dal panico Guarda ma tanto lo so già che Visserò malissimo E salirò sulla lampetta finale Quella infame Io sono appiccicato ad Eme E la cosa mi dà parecchio fastidio Potresti elevare Dopotutto la visuale No Sì la visuale è terribile No Ok forse l'ho superato No mi ha ripreso la curvettina No frizzino Porca miseria Ok cioè Tiar Che inizia ad accusare La pressione Da la colpa Ai lag No no mi ha proprio frizzato Mi ha proprio frizzato il gioco Sì sì Dicono tutti così E poi laggano Infatti È quello che è appena successo Ragazzi Allora stiamo tornando Alla zona del portale No di nuovo qua Nella cattedrale C'è il pezzo dietro Dove c'è la sacrestia Stare attenti a ste barriere Infatti l'ho preso in fa Eh vabbè Mi sono bloccato le barriere invisibili Di nuovo Eh beh Ok questo Preso bene Va bene Ok Ragazzi ho perso un po' di terreno Purtroppo su M Eh già Eh già Però doppio boost di velocità Doppio boost Dove sbaglierà un sacco Dove sbaglierà questa volta Secondo voi Non lo so La lampetta finale Direttamente Ma mi blocco perché Ho superato M Sì perché mi pianta Ok Non lo so Si è messo a fare botanica Ha piantato Eh diritto Eh ma siete avanti un sacco Io ho perso il sacco là Ho anche preso un sacco rispetto a M Qui c'era la barriera alzata Quindi ti ero è passato Da qualche secondo Sto entrando Su ora sono dentro la metropolitana Ti ho visto Vedo M all'orizzonte Questa volta non ho missato Non ho fatto errori dentro la metropolitana E che è ottimo Ok Oppure non sto facendo errori Quindi sto mangiando terreno Non mangiare il terreno Che non fa bene allo stomaco Eh mi sono rincastrato lì di nuovo Ha cambiato Ha cambiato di nuovo la hitbox Dei mezzi Della tv E non passa da quel punto ragazzi Bisogna fixarla Ma se non è la tv non ci è mai passato C'erano di mezzo che non ci passano C'è un punto C'è un punto che Non ha senso che non passi Che succe Oh la finestra in mezzo è incassato prima Stavo cadendo fuori dal ponte Sarebbe stato bellissimo Qua Qua ho modificato tanto duramente Sei caduto No 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 Stavo per Ok Avrei riso tanto Mi ha superato M sul salto Io ho rallentato apposta Perché No la finestra Ecco 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 La finestra è infatti Vedi a ridere Vedi a ridere La finestra è terribile Ragazzi stavo cadendo Dal ponte dell'elicottero io Come dal ponte dell'elicottero Ti giuro Come Ero finito sopra la barriera Raga sto per avvicinarmi alla lampetta No raga L'ha presa Sta trollando Sta trollando Pallese Peccato Speravo Speravo Guarda Guarda Forse È quasi un risultato più Incredibile Se vincesse Tier Sarebbe quello Il colpo di scena Vado Non vorrei parlare Ma io potevo sbagliare L'unico punto dove non dovete Adesso Tier è all'ospedale Noi siamo subito dietro Però mi sa che ha un discreto vantaggio Mi sono incassato in un punto Davvero Imbarazzato Tutti i piedi sul divano Ultima curva Sta vincendo Sta vincendo Tier sta vincendo Stiamo su un rettilineo Ma cosa è successo? Non dobbiamo farci distrarre però Perché qui ci hai mi attaccato Però io qui sono forte Ragazzi Io qui sono una bestia Non mi farò recuperare Tensione Ragazzi ho lasciato un sacco di metri a Eme Ci prendiamo questo prezioso secondo Posto con un Tier Che questa volta È Yes Una volta ce la fa Incredibile Cioè tra l'altro ho dovuto fare una telecrona Che a parte alcuni momenti di concentrazione È stata super sostenuta ragazzi No la lasciamo vedere Guidomeda sposta Cioè Guidomeda Vaffan... No Non ha fatto niente di male Ma adesso ragazzi State con noi Perché dopo lo spot pubblicitario Che c'è già stato Il mid-roll probabilmente Ci sarà la premiazione Provisoria Ragazzi questa gara iniziale Del trofeo Cavallo zombie Cioè Tier Io ti continuo a dire Che è stata una scelta pessima Potevate lamentarmi prima Però ormai è tardi Voglio dare le colpe a te Dopo In maniera postuma La classifica è così Tier Il primo posto Io al secondo Eme al terzo Tech al quarto Ma Non è finita Perché è solo la prima di tre gare Avremo la seconda gara Sul canale di Quattro gare La seconda gara Sul canale di Eme La terza su quello di Tech La gara finale su quello di Tier A meno che Non si perda di nuovo Il fallimento Ehi Detto ciò Ragazzi Ciao Ciao Ciao